Allora ragazzi, intanto mi volevo scusare per il video privo di contenuto, però sinceramente in questi giorni non sapevo cosa registrare e quindi ho deciso di riproporvi questo mio inizio partita su Black Ops 3 che fece tipo l'estate scorsa e c'avevo questa clip salvata sul computer ho deciso così di caricarvelo giusto per farvi avere qualcosa sul canale e magari giudicate il mio vecchio modo di giocare perché questa clip è molto vecchia quando sapevo giocare ancora a B.O.3 infatti adesso faccio schifo alla merda mi raccomando ragazzi, raggiungiamo allo stesso i 50 mi piace come al solito e niente dai, vi lascio al video privo di contenuto, buona visione non vive chi non rischia, è quello che ho imparato e impari ad apprezzare solo chi se ne è già andato io vivo nella mischia ma ci vivo da isolato e la gente ti critica e non sa cosa è passato e la gente ti critica e non sapevo a B.O.3 la gente ti critica e non sapevo a B.O.3 la gente ti critica e non sapevo la efficacia e mai Grazie a tutti